Io fin dall'infanzia avrei sempre desiderato tanto o fare l'elettricista o il meccanico, per esempio, e invece mi è toccato andare al bosco. Ora che a una certa età mi sto accorgendo che forse è stato un bene, non lo so, ma il bosco mi ha dato tanto, tanto, veramente tanto. Uno mi ha dato la vita, mi ha dato da vivere, ma il fatto di avere delle esperienze che oggi gente, anche come voi, vi fa meraviglia sentirle raccontare, non capite, non riuscite a capire di cosa sto parlando. Questo per me e per tutti quelli come me che hanno fatto la vita vissuto al bosco è una cosa semplice e bella. Tanti bei racconti di tanta bella gente, gente che non c'è più, gente che mi ha insegnato tante cose, cose che poi ho riportato anche a voi, che sono poi sempre quelle lì perché l'arte del bosco è tramandata da millenni. È stata fonte di vita, per il carbonaio è stato, il bosco è stato una cosa di rispetto, che doveva rispettare, era qualcosa che lui doveva curare e tener di conto perché per lui era la base principale, era la sostentazione, era il vivere. Il carbonaio, i ricordi del bosco, non li dimenticherà mai, mai, anche se ora non si usano più. La natura era qualcosa di selvaggio e terribile, benché bellissimo. Guardavo con soggezione la terra che calpestavo per vedere cosa avessero compiuto le forze. La forma, il modo, il materiale della loro opera. Questa era la terra di cui sentiamo parlare, creata dal caos nella notte dei tempi. Qui non c'erano giardini, ma il globo incontaminato. Niente prati, né pascoli, né coltivazioni, né boschi, né terre arabili, né incolte, né desolate. Era la superficie fresca e naturale del pianeta Terra. Come era stata creata per i secoli dei secoli. Come dimora dell'uomo, diciamo noi. Così la natura l'ha fatta. E che l'uomo la usi se può. Questo bosco che voi vedete tutto qui intorno, ora a metà già adulta, perché dagli anni 50 in poi non è più stato sfruttato per l'uso della carbonizzazione del carbone. Di conseguenza ora è sviluppato, le dimensioni sono ancora maggiori. Mese prima, il taglio del bosco veniva fatto ogni 12 anni. Il bosco, in sé per sé, è un bosco ceduo. È di forteto. Perché forteto? Ceduo sta perché giovane, di giovane età. E forteto perché le essenze del legno sono tante e sono miste. C'è il leccio, c'è l'albatro, c'è l'ornello, c'è il carpine, c'è il zontro, c'è la mortella. Ecco. A maggior ragione nell'ambito, nella zona qui della Maremma le essenze sono fortissime. adatte proprio alla carbonizzazione. In quei periodi lì il carbone del forteto era l'eccellenza. Poi dipendeva dal tipo del carbonaio. Il carbonaio, da avere più mestiere o meno mestiere, aveva più, migliore prodotto o peggior prodotto. e di conseguenza il carbonaio che era di mestiere riusciva non solo a carbonizzare la legna in maniera migliore dell'altro, di un altro, però rendeva un prodotto superiore sul mercato. Tutto questo in cosa consisteva? Conoscere il terreno, il tipo di copertura che va sulla carbonaia, il tempo di cottura, come guidare il fuoco. Questa era la piazza, il tagliatore tagliava, per 15 metri al di sotto della piazza. La piazza sta non per carbonaia, la piazza sta per la piazza e poi dopo ci veniva fatto sopra la carbonaia. Tagliava per 15 metri sotto, lateralmente andava finché non raggiungeva la distanza dell'altra carbonaia e per 40-45 metri anche sopra. Questa legna la portava su 15 metri dal di sotto e dalla parte come la trasportava? A spalla. Perché quando veniva tagliato il bosco, veniva tagliato il bosco in maniera ben precisa, veniva tagliato, si partiva dalla piazza, in questo caso da questa piazza, si iniziava il taglio del bosco, veniva tagliato, la frasca veniva scansata e in mezzo rimaneva una via libera e lì andava al monte della legna. Il tagliatore tagliava, tagliava questa legna la metteva lì e andava avanti, 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 per i 45 metri. Quando era dal di sopra tendeva a tirarla in giù, man mano che lavorava questa legna la prendeva e la tirava in giù verso la piazza e cercava di avvicinarla. Invece quella dalla parte di sotto la tirava in su in modo da avere una facilità di avvicinamento alla piazza. Nel costruire la carbonaia, involgerla perché veniva involta, perché il tagliatore come si è detto prima aveva portato tutto nei dintorni della carbonaia, dipendeva dal numero degli uomini che componevano la compagnia perché il carbonaio era una squadra a seconda del numero delle persone che erano il giorno dopo poteva essere completata. ce ne potevano volere due difendeva dalle persone che ci lavoravano. Quindi all'interno dello stesso bosco c'erano più compagnie che lavoravano? Molte compagnie. Ogni compagnia aveva una sezione una zona assegnata dove il padrone diceva bene allora te quanti sei? E' un numero. Diceva siamo in quattro e allora veniva fatta una considerazione venivano assegnate per dire è un numero sempre un numero 50 piazze. c'era il capofuoco che era quello che guidava il fuoco era il più responsabile poi c'era il carbonaio i vari carbonaio poi lavoravano tutti lavorava le donne lavorava ragazzi il pregio di tutti era il capofuoco perché il capofuoco era sempre la persona che seguiva tutto il lavoro e tutto dipendeva tutte le fatiche di tutti loro dipendevano da lui. Questa è la tipica carbonaia una volta che era pronta per venire messa a fuoco e carbonizzare questa legna veniva carbonizzata l'inverno perché il taglio iniziava a settembre settembre, ottobre, novembre, dicembre fino a marzo legna verde che tipo di legna verde era il discorso delle essenze tagliate però erano sempre verdi non erano seccate essiccate dal tempo perché a legna verde veniva usato un sistema di inizio carbonaia della rocchina veniva cosiddetta buca venivano piantati quattro legni fatto un cerchio un anello di legno e messo e cominciato a involgersi la legna tutta intorno perché perché la buca doveva essere grande c'era un motivo ben preciso che questa buca dovesse essere grande perché la quantità di fuoco per incendiare iniziare la cottura di questa legna verde era difficile mentre mentre quando veniva in volto la carbonaia a riccio con il famoso palo il buco era piccolo perché la legna ormai era già secca e allora con poco fuoco la si poteva mettere fuoco essendo buca piccola si riempiva di di bruci carbonizzata in poco tempo e allora veniva alimentata da mozzi molto piccoli invece se era legna verde di conseguenza a buca bisognava fare prima i mozzi e poi gli abbocchi e questi a cosa servivano una volta la carbonaia come vedi era involta veniva messa la pacciamatura anzi veniva messo il calzolo vedi in fondo in fondo la carbonaia ci sono delle zolle delle iove che cosa fanno queste zolle e queste iove trattengono e tengono tutta l'altra terra che viene messa sopra come copertura e allora veniva messo queste zolle veniva messo questa la paltriccia la foglia perché se la terra che noi ci mettiamo sopra va a contatto della legna non carbonizza allora veniva messo il fuoco il fuoco ha delle fasi la prima fase il fuoco va in fondo dall'alto verso il basso dall'alto viene messo e va verso il basso e va in fondo e la carbonaia è messa a fuoco a questo punto comincia a fumare perché comincia a fumare perché questo fuoco comincia a ardere la legna che c'è tutta intorno e allora veniva fatto dei mozzi la legna identica a quella che è stata fatta usata per fare la carbonaia e il carbone veniva tagliato a pezzettini corti tanti quanto rentrassero dentro la buca che veniva fatto allora se era buca i mozzi erano più lunghi se era arriccio col palo i mozzi erano più piccolini perché tutto questo? da far sì che la buca di fondo fino in cima si riempisse di braci ardenti e allora il fuoco prima va giù e man mano poi questo fuoco sale 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 veniva riempita e coperta e lei timidamente cominciava a fumicare nella parte bassa del terreno a livello veniva fatto dei fori con un legno venivano fatti dei legni e quelli erano i cagnoli erano chiamati i cagnoli servivano per dare aria al fuoco che cominciasse a carbonizzare questo fuoco man mano cresceva 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 la sera il fuoco era in cima il fuoco era in testa a questo punto cosa succedeva? il capofuoco la rifrugava con una pertica si rendeva conto che fosse tutta piena di carbone tutta di fuoco accerito la ricopriva e il giorno dopo cominciava il lavoro del capofuoco faceva una fila di buchi tutti intorno intorno alla testa in modo da far sì che lei cominciava a fumare a sfiatare man mano che il colore cambiava il fumo cambiava di colore lui arrivava a capire se era il momento di abbassare quei fori se il colore del fumo cominciava ad essere azzurro allora lui capiva che lì il fuoco era passato la carbonea cosa cominciava a fare cominciava a abbassarsi di testa si abbassava di testa e il capofuoco cominciava a comandare il fuoco e faceva una fila al di sotto della prima fila di buchi ne faceva un'altra poi ne faceva un'altra poi ne faceva e portava graduatamente al livello sempre il fuoco il giorno andava in cottura la sera veniva sommondata cosa voleva dire sommondata tutta la terra veniva scaricata messa giù qui nei bordi un pezzo alla volta perché se no si sarebbe riaccerito tutto una parte veniva scaricata con un rastrello apposito veniva ripulita e veniva chiamato il polverino veniva fina come la borotalco e poi riveniva data alla carbonea dove era stata tolta da far sì che tutta ripulita tutta sommondata non c'era possibilità di aree agide si spengeva la notte dopo veniva levata una parte e così veniva levata una parte fino alla buzza veniva arrivata fino a dove è la buzza la buzza era in quel punto al centro della carbonaia dove c'era la buca dove il carbonaio aveva sfruconato aveva usato per vedere se la carbonaia aveva staccato o meno e veniva tolto questa parte e veniva messa nello spiazzo allora cosa c'era c'era una gara tra compagnia e compagnia nel bosco di saper fare il carbone di avere mestiere e come lo dimostravi perché non lo potevi dimostrare il mio carbone è meglio del suo io sono più bravo di lui o di te e allora veniva messo degli oggetti dentro la carbonaia che oggetti veniva messo c'era chi faceva un rastrellino e lo metteva dentro c'era chi faceva una scaletta e la metteva dentro c'era chi faceva una cestina e la metteva dentro e poi dovevi cercare sapevi dove era il capofuoco sapeva dove era e la dovevi levare intera allora un cancellino una scaletta quello che vuote un oggetto del genere carbonizzato intero quella era la dimostrazione del mestiere della compagnia grazie